E benvenuti in questo video di Xden Qua siamo in un nuovo video su Mine... Eh? Su Minecraft? Bis... Mi... Mythbusters Terza o quarta puntata non mi ricordo Vabbè comunque poi ci sarà nel video scritto Partiamo... Ah aspetta Quarta puntata giusto Quarta puntata Comunque Partiamo subito con il sedicesimo mito Ehm... Adesso si fa... What the fuck? Aspetta un attimo Ehm... Dicevo Allora qua il primo mito parte con Non so se sapete l'esistenza di Questo blocco Sì quando si apre la cesta però Aspettate che bella Mhm Ok qua Non so se sapete il... L'esistenza di questo blocco che si ha a barriera Anche se voi lo mettete Non si vede Il blocco è invisibile va Esatto E se si mette tipo nel quadro Spunta o no? Vediamo Oh aspettate un attimo Vediamo Ah spunta Spunta Il mito è confermato Quindi Il sedicesimo mito è confermato Quindi passiamo Alla prossima Ecco qua Comunque questo mito è... Cosa? Questo mito è... Ah qua siamo... Sì vabbè Mi sono andocato nell'acqua Il sedicesimo mito Allora se si spinge la cobblestone Sotto lo slime Quando poi passerà lo slime Si porterà anche lo slime Cioè Si attaccherà la cobblestone che passerà oltre Ma vediamo Ma per chi è fermo lo slime? Come fa? Come perché è fermo? No non ha la trazione posteriore Sì posteriore Vabbè qui Esatto Oddio Oh my god Vabbè perché si è accesso da poco Quindi Capite il mio computer Affaticato Oddio che è? Ah mi sto andando indietro Ok Ok ha raggiunto quasi lo slime Ecco l'ha raggiunto adesso Continuerà No È busted Perché lo slime si dovrebbe stare qua Che il blocco di cobblestone l'aveva appiccicato E quindi doveva stare qua Quindi il mito è busted E passiamo al diciottesimo mito Il diciottesimo mito in grande Guardate Sembra con il blocco di slime Ma non scordiamo Ehm Buttando nel cubo di slime Che ricordo che si rimbalza Ecco qua Se buttiamo il cubo di slime grande O quello piccolo Cambia qualcosa Cioè tipo il salto è più grande O più piccolo Vediamo Intanto buttiamo O rimbalza No rimbalza Infatti anche questo Vediamo Buttiamo quello piccolo Oh quando è rimbalzato però Guardate quando rimbalza Ok intanto uccidiamo Così proprio No ho spaccato il blocco Vabbè Scappa Scappa Non è scappato Eh lui non è scappato Ah io non c'entro niente Ora facciamo cadere quello grande Quello pong E vince Dai Cadi Cadi Collabora Oh my god No è stato doppio Di più di quello piccolo Eh sì Quindi Il mito è confermato Perché lo slime Più grande Più grande Salta di più Quindi passiamo al Ehm Diciannovesimo mito Allora per questo diciannovesimo mito Dovrò prendere il L'uovo L'uovo di Dove cavolo è Ok L'uovo di scheletro E mi devo mettere anche in Sovravivenza Perché Lo scheletro spara anche se ci sono i cartelli Sapete che i cartelli bloccano l'acqua Comunque I liquidi E quindi Anche i mob Tipo non vedono oltre questi blocchi Quindi ora io metterò uno scheletro qua E io mi metterò qua In sovravivenza Vediamo se mi spara le frecce Intanto mettiamoci in sovravivenza Mod 0 Ok Mettiamo lo scheletro Ecco Se Il mito è Confermato Sì Sì È confermato perché Sì ci spara anche Dietro i cartelli Però non li passa Attenzione No non li passa forse perché c'è il sole Comunque E ragazzi Oggi siamo arrivati Anche oggi All'ultimo mito Vabbè Si deve arrivare sempre all'ultimo mito Non è che Al vendesimo mito Siamo arrivati Se il golem Coppisce i suoi avversari Guardati che bel golem Coppisce gli avversari Anche dietro Le sbare di ferro Ora prenderò Un uomo di Un uomo L'uovo di zombie Lo metterò qua 3 2 1 Sì però Non questo qua Ma come fa a sponare così Ma non quello piccolo Voglio quello normale Eccolo qua Ok Perché sta bruciando Prima perché c'è il sole No ma ci ho messo la sabbia delle anime Non dovrebbe bruciare Ci metto la protezione va Protezione solare Però Sembra che il golem Non sia interessato Intanto uccidiamo questi zombie Schifosi che prendono a fuoco Piccoli cose varie Muori Vabbè dai Muori Ecco Cosa sta facendo Sta volando questo qua Vabbè comunque Non ci interessa No Anche ora che ho messo la protezione Dovebbe funzionare Perché mettiamola anche qua Anche qua Vai però Madonna quante esperienze Che mi gira attorno Ok Dai golem Facci Attacca Attacca Dai Fallo per il video Dai Devo anche i cubi di qua Dai Attacca No Non attacca Guarda proprio è anche scioccato Guarda noi Poverino E il mito e bastid Non attacca Dietro per sbarre Però non sembra neanche interessato Guarda Perché guarda Se lo mettete qua Invece pam Pium E lo uccide Comunque il mito Il mito e bastid Il video è terminato Anche per questa volta E per questo video è tutto Ci vediamo Iscriviti Combinati Lasciate un like E per questo video è tutto Ci vediamo Ehi folli Vovolande Comunque Lasciate un like Iscriviti A canale Show Ciao!